Che idea abbiamo di Dio? Che idea si sono fatti gli uomini di Dio? Beh, la storia è piuttosto lunga e a noi preme raccontarla sin dalle origini. Stiamo parlando dei presocratici, dei cosiddetti presocratici, e dunque non possiamo trascurare e dedicare almeno una lezione a Senofane di Colofone, il quale per primo, attraverso il suo poema, o meglio attraverso i frammenti che ci sono rimasti nei suoi poemi, pone una questione importante all'ordine del giorno, cioè si interroga intorno alla natura di Dio, intorno alla natura del Divino. Dunque questo è il tema che tratteremo principalmente oggi. Il Divino, guarda un po', non è come se lo immaginano gli uomini, negli uomini del passato che si immaginavano dei antropomorfi, sostanzialmente dei superuomini, degli uomini potenziati, sia in termini conoscitivi che in termini di potenza muscolare, insomma. Ma forse Dio non è nemmeno come ce lo immaginiamo noi oggi, sempre che qualcuno continui ad avere bisogno di immaginarsi Dio, ma forse sì, di Dio abbiamo bisogno anche in un'epoca come la nostra, che di Dio sembra essersi dimenticata. Ma questa non è una lezione di religione, è una lezione di filosofia, quindi ci interroghiamo intorno alla natura del Divino. Serofane di Colofone, che lui è un filosofo vissuto tra il VI e il V secolo a.C., quindi più o meno è contemporaneo di quei giganti che abbiamo incontrato sin qui, in particolare di quell'Era Clito, a cui abbiamo dedicato l'ultima lezione. Colofone è sempre una città che si trova nella Ionia, insomma, sulle coste dell'Anatolia, cioè dell'odierna Turchia. Serofane ha una vicenda piuttosto particolare, lui, anche lui, si dedica a una serie di viaggi, una serie di trasferimenti. Abbiamo visto questi sofoi, questi saggi dell'antichità, sono girovaghi, che spesso vanno da una città all'altra. In particolare, Serofane, oltre a fare di mestiere il filosofo, anche se non esiste naturalmente il mestiere del filosofo, di mestiere fa anche il rapsodo, cioè il cantore. Dunque, emulo di Omero, va in giro di città in città, è rabbondo, eccolo, lo troviamo, è rabbondo di città in città, a declamare i suoi poemi. Mi pare che lui declamasse, almeno per quelle che sono le informazioni che ci sono giunte, che lui declamasse in prima persona i poemi che lui stesso componeva, e di cui poi vedremo velocemente il contenuto. E dunque, dalle coste della Ionia, si sarebbe recato, in uno dei suoi viaggi, dall'altra parte della Grecità, all'estremità opposta della Grecità, cioè quella occidentale, ovvero in Sicilia, prima in Sicilia, poi in quella che i romani chiameranno Magna Grecia, quindi nella parte occidentale del mondo greco, per così dire, e lì avrebbe, come dire, gettato i semi della ricerca filosofica. Infatti molti attribuiscono a Senofane, come dire, il ruolo di maestro di quella che poi sarà la scuola eleatica, che studieremo nelle prossime lezioni, quella che fa riferimento a Parmenide. Si tratta di un'attribuzione, più che altro, di scuola. I Greci hanno bisogno, insomma, di stabilire un netto rapporto tra un maestro e un discepolo. Si chiama scolarcato, sostanzialmente. Quindi che le cose poi siano avvenute realmente in questa maniera, questo non ci interessa più di tanto, ecco, ci interessa a livello storico documentale, ma non a livello propriamente filosofico. Quindi da Colufone sarebbe poi approdato in Sicilia e lì sarebbe morto all'età di quasi cent'anni, insomma, sarebbe vissuto quasi cent'anni. Vediamo innanzitutto la fisica, cioè quella che è la visione della natura, della physis, espressa da Senofane. Come al solito ho scelto, ho selezionato alcuni passi, alcune testimonianze, poi alcuni frammenti di Senofane, li leggiamo insieme, li commentiamo. Senofane di Colofone, figlio di Ortomeno, visse fino ai tempi di Ciro, l'imperatore verziano, quello delle guerre contro i Greci, per capirci. Fu lui il primo a parlare della inconoscibilità di tutte le cose, dicendo, infatti, se anche uno si trovasse per caso a dire come meglio non si può una cosa reale, tuttavia la conoscerebbe per averla sperimentata direttamente. Per chi a tutti è dato solo l'opinare. Breve commento, inconoscibilità di tutte le cose, questo atteggiamento in filosofia lo definiamo con il termine di scetticismo. Lo scetticismo è quell'atteggiamento che è dedito alla ricerca, indubbiamente, ma che ritiene la ricerca non possa terminare, non possa avere come punto d'arrivo la scoperta di questa o di quella verità, cioè che l'uomo sostanzialmente non può giungere a determinare, una volta per tutte, che cosa sia la realtà, quale sia il principio primo della realtà. Il motivo è sostanzialmente questo, l'uomo, il singolo uomo, conosce soltanto quello che sperimenta direttamente, cioè ciascuno di noi conosce quello che sperimenta direttamente attraverso i propri sensi, attraverso la propria esperienza di vita. Tutto quello che uno sperimenta direttamente finisce con lo sfuggirgli. Dunque, siccome la verità è sostanzialmente la somma della realtà in sé, ecco, se immaginate che quella che noi chiamiamo realtà è la somma di tutti i fenomeni che si danno in natura nel tempo e nello spazio, va da sé che, data la limitatezza della nostra vita, data la limitatezza della nostra esperienza, che è sempre scandita da determinate coordinate spazio-temporali, ebbene, se tutto quello che effettivamente siamo in grado di conoscere non passa, se non attraverso la nostra esperienza, la totalità dei fenomeni finisce inevitabilmente con lo sfuggirci. Beh, sostanzialmente io oggi, in questo preciso momento, posso dar conto dei fenomeni che mi accadono, che accadono intorno a me, e posso averne una nozione più o meno chiara, ma mi sfuggono tutti gli altri fenomeni che contemporaneamente stanno avvenendo in altre parti del mondo, per non dire in altre parti dell'universo. Ecco, questa è sostanzialmente la radice dello scetticismo espresso da Senofane in questo frammento. Dunque, a tutti non è dato altro se non l'opinare. Opinione in greco doxa, dal verbo docheo, sembrare. Quindi quello che noi sappiamo in realtà non è verità, verità assoluta, inconfutabile, ma pure semplice opinione, cioè noi descriviamo le cose così come ci appaiono, non effettivamente le cose così come sono, perché per dire le cose come sono dovremmo poter esaurire tutto il mondo, tutta la realtà, in una sola parola o in poche parole. Dice, Senofane sempre, che nulla nasce né perisce né si muove, che uno è il tutto, esente da mutamento. Dice anche che Dio è eterno e uno è uguale in ogni parte, è finito, è sferico, è dotato in tutte le sue parti di sensibilità. Ora, queste due affermazioni sembrano in contrasto, anzi sono evidentemente in contrasto con l'affermazione precedente, ma vi ricordo che quello che sto leggendo e commentando è una raccolta di opinioni fatta da un dossografo, in questo caso Ippolita, uno dei padri della Chiesa, insomma, che riporta le opinioni dei filosofi antichi. Spesso le riporta anche senza porsi esattamente la questione della loro coerenza. Dunque, da una parte a Senofane si attribuirebbe una visione nel mondo scettica, o comunque scettica relativamente a quello che i sensi possono dirci della realtà. Per taluni storici della filosofia, invece, nel frammento B34, in quello che ho commentato prima, Senofane si starebbe riferendo ai più, cioè ai non sofoi, ai non sapienti, per così dire. I non sapienti sono quelli che si basano sulla conoscenza attraverso la sensibilità, cioè sulla dox, e dunque l'esito di quel tipo di conoscenza non può che essere scettico, per capirci. Invece la conoscenza che si basa sul logos, cioè sulla ragione, cioè sul ragionamento, produce un andamento decisamente diverso, perché nelle altre due proposizioni abbiamo delle affermazioni nette, veritiere, per così dire, no? Assolutamente assertorie. Dice che nulla nasce né perisce, nulla nasce né perisce, nulla si crea né si distrugge, quindi la realtà in sé per sé esiste da sempre, esisterà per sempre nella stessa maniera, non è soggetta a mutamento né a movimento né si muove, e che uno è il tutto, tutte le cose, tutta la realtà sono uno. Affermazione che abbiamo già visto in Eraclito, esente da mutamento. Quindi abbiamo un universo, un cosmo, che si presenta assolutamente unitario, assolutamente coerente, per così dire, e che, nonostante le apparenze ci dicano tutt'altro, non è soggetto al divenire, non è soggetto né al movimento né al mutamento, quindi né al movimento nello spazio né al mutamento, al cambiamento nel tempo. Quindi nascita e morte sono fenomeni assolutamente apparenti. Questo è il significato della seconda proposizione. Veniamo alla terza, la terza proposizione dice anche che Dio, e qui troviamo il termine Dio, Theos, è eterno e uno è uguale in ogni parte, è finito, è sferico e dotato in tutte le sue parti di sensibilità. L'idea della divinità, questa assolutamente moderna per alcuni versi, comunque astratta, abbiamo un grado di astrazione assolutamente superiore a quella che è la concezione dei greci arcaici, per cui non esiste innanzitutto un Dio, non si parla di Otheos, ma si parla di divinità oiteoi sempre al plurale. Quindi Dio è uno, e già questa affermazione è assolutamente significativa, andiamo verso una forma di monoteismo in un certo senso, che non va inteso alla maniera in cui lo intenderanno poi gli ebrei o i cristiani, ma insomma va verso una forma di monismo monos, uno solo, un'unica cosa, cioè la natura, la realtà sarebbe una cosa sola. Era l'affermazione contenuta nella precedente proposizione, e questa unica e unitaria realtà, che noi chiamiamo fisica e natura, è divina. Dunque se il tutto per cui nulla nasce e nulla perisce, se il tutto dura in eterno, anche il divino, che corrisponde al tutto, cioè che corrisponde alla natura, non può non essere che eterno. Uno è sempre uguale a se stesso in ogni parte, quindi senza alcuna forma di discontinuità. Nello stesso tempo è finito, limitato, perfetto, ricordatevi che per i greci ciò che è perfetto ha dei limiti ben precisi, altrimenti andiamo verso il concetto di imperfezione. L'imperfetto è ciò che muta, ciò che ancora non è stabile. Qui stiamo parlando di una realtà assolutamente stabile, dunque è uguale a se stessa in ogni parte, ed è finita dai confini ben precisi. Questi confini ben precisi si presentano in termini sferici, quindi anche qui avrebbe usato senofane la visione, l'immagine della sfera, che poi ritroveremo anche in quello che viene considerato da alcuni il suo discepolo, anche se non abbiamo notizie certe del rapporto tra senofane e il grande parmemide di Elea. Il grande parmemide di Elea che appunto rappresenta l'essere, il filosofo dell'essere, rappresenta come una ben rotonda sfera. Questa ben rotonda sfera, questo tutto, che corrisponde alla physis, è in tutte le sue parti dotato di sensibilità. Quindi la natura sarebbe un unico, per così dire, un unico organismo, permeato di intelligenza e di sensibilità, quindi una sorta di animale, dotato di un'anima, in ogni sua parte, in ogni sua componente. Una visione, ancora una volta, di tipo olistico, abbiamo già usato questa parolaccia, tolon, che indica il tutto, e di tipo, potremmo utilizzare quest'altra parolaccia, sempre greca, di tipo panteistico, pan, pasapan, in greco significa tutto teos, tutto è Dio, tutto è divino. Il tutto è la physis, cioè la natura, dunque la natura è divina, la natura è Dio e il divino corrispondono. Dice inoltre, Senofane, che il sole nasce ogni giorno dall'adunarsi di piccole scintille, qui andiamo verso l'astronomia, la meteorologia, qualcosa del genere, che la terra è infinita e che né l'aria né il cielo lo avvolgono tutta, che ci sono infiniti soli e infinite lune e che le cose tutte vengono dalla terra. Ora, anche qui queste proposizioni evidentemente presentano delle contraddizioni con quelle che abbiamo letto prima, no? Prima abbiamo detto che il tutto è assolutamente uno ed è assolutamente finito, qui invece troviamo che la terra è infinita e che sostanzialmente è vero che ci sono infiniti soli e infinite lune e che tutte le cose vengono dalla terra. Ora che poi anche i soli e le lune vengano dalla terra è un'affermazione effettivamente un po' difficile da sostenere e da immaginare. Ma insomma, ecco, l'idea dell'infinitezza del cosmo, quindi di infiniti soli e infiniti lune o infiniti planetes, cioè dei vaganti nello spazio, è un'idea abbastanza suggestiva, se vogliamo, comunque coerente e conforme con la visione del cosmo che abbiamo noi oggi, no? Tutto viene dalla terra, quindi qui avrebbe come preeminenza, avrebbe preeminenza l'elemento terra. Abbiamo visto invece in Talete, abbiamo visto essere preeminente l'acqua, no? Il mare, in Anassimene, l'aria, in Eraclito, il fuoco, qui si parla di terra, tanto per non fare torto a nessuno dei quattro elementi concepiti dagli antichi, no? Il mare, secondo lui, è salato per il fatto che in esso si riversano molteplici miscele, questa è un'affermazione che potrebbe aver senso, anzi ha assolutamente senso, molteplici miscele di sali sciolti nell'acqua, per questo il grado di salinità del mare, lo sappiamo, dipende esattamente da quello. Metro d'Oro, invece, dice, un altro tossografo, dice che è per il fatto che si filtra nella terra e che diventa amaro. Un'altra tesi per cui il mare potrebbe essere salato. Senofani ritiene che si verifichi mescolanza della terra col mare e che la terra col tempo venga disciolta dall'elemento umido. Dice di avere queste prove che nella terra ferma e nei monti si trovano delle conchiglie e dice che a Siracusa, nelle latomie, famose latomie, le prigioni di Siracusa, si sono trovate impronte di pesce e di foche. Apparo l'impronta di una sarda nella pietra viva e ammalta delle impronte di ogni sorta di pesce. Dice che questo è avvenuto quando anticamente tutto fu ridotto a fango e che l'impronta nel fango si è disseccata. Dice che la specie umana scompare quando la terra, sprofondatasi nel mare, diventa fango e che poi di nuovo la terra ricomincia a formarsi e che tale è la trasformazione a cui tutti i mondi sono soggetti. Allora, cosa che i Deci può suggerire questa serie di doxai, di opinioni? Perché la terra dovrebbe essere preeminente. Senofa ne ha girato parecchio, ha viaggiato parecchio, ha avuto notizie di quelli che sono indubbiamente dei fossili, oggi noi gli diamo un nome ben preciso, sono fossili, fossili di pesci, impronte di pesci, impronta di una sarda in particolare, di foche addirittura. Sono impronti fossili che si trovano nella pietra. L'idea è esattamente questa, che in effetti è un'idea coerente con quello che sappiamo noi oggi. Per esempio i fossili si ritrovano sugli appennini, magari sarà capitato anche a qualcuno di voi durante una passeggiata, di trovare o di avere notizia della possibilità di vedere un qualche fossile che si trova in una località di montagna o di collina. Uno si chiede ma come è potuto arrivare un fossile di una creatura marina, un trilobite, magari risale aeree geologiche molto indietro col tempo, come può trovarsi in montagna? Beh, evidentemente oggi noi sappiamo che la Terra, attraverso la geologia, che la Terra è continuamente in movimento, i continenti sono alla deriva, quindi là dove una volta esistevano dei mari o degli oceani oggi esistono dei continenti e che quindi queste placche terrestri si sarebbero sollevate e dunque evidentemente quel pesce, quell'animale anticamente è caduto in fondo al mare per qualche evento particolare, è stato avvolto dalla fangheglia, dalla terra, dalla sabbia, si è in qualche maniera solidificato, magari per l'eruzione di un vulcano sottomarino, ha lasciato un'impronta nel fango, il fango poi si è indurito, è diventato pietra e aeree geologiche dopo questa parte di Terra è emersa, è stata portata verso l'alto e dunque Senofane o chi per lui ha potuto osservare questa impronta. Ecco, noi immaginiamo uno scenario del genere, immaginiamo un antico, che è un grande viaggiatore, molto curioso evidentemente, quindi esperto di paesaggi diversi, esperto anche di geografie diverse, che vede questi fenomeni e le deduce che tutto viene dalla Terra, evidentemente se tracce di animali marini le troviamo impresse, per così dire, nella pietra, nella Terra, evidentemente la Terra sta alla base di tutti i fenomeni, è una sorta di archè. Un ragionamento semplice, forse anche in qualche maniera semplicistico, quanto mi pare, ma assolutamente interessante dal punto di vista euristico, cioè dal punto di vista, diciamo, come tentativo di conoscenza, come tentativo di conoscenza non di tipo mitico, mitologico, perché questo è il vero discrimine tra i primi filosofi, o quelli che noi chiamiamo filosofi, o sofoio, sapienti, e i mitografi, quelli che avevano tentato di dare delle spiegazioni dei fenomeni, dei fenomeni naturali, attraverso il mito, quindi ricorrendo a questa, a quella immagine divina. Andiamo avanti, qui troviamo un frammento piuttosto lungo, è il frammento numero uno di senofane, è un frammento di tipo elegiaco, quindi si tratta di un'elegia, e troviamo un senofane diverso, lì lo abbiamo conosciuto nelle vesti di scienziato, naturalista, meteorologo, ma anche filosofo metafisico, filosofo che si occupa anche di questioni epistemologiche, cioè che si interessa della cosiddetta teoria della conoscenza, è il primo frammento quello che abbiamo letto, per cui tutto è inconoscibile, poi si è intrattenuto, per così dire, sul senso, sulla natura del tutto, tutto è uno, vi ricordate? Poi si è arrivati a dare delle indicazioni di tipo naturalistico, quindi la terra sarebbe l'archè di tutte le cose, adesso abbiamo un vero e proprio passo poetico, tipico ecco delle leggie antiche, lo studierete, se non l'avete ancora fatto, lo studierete in letteratura greca, i lirici greci sono veramente un capitolo di letteratura greca assolutamente appassionante. Sentite, sentite senofane, ora ecco il pavimento è terzo e le mani di tutti e i calici, c'è chi ci circonda il capo di ritorte ghirlande, c'è chi porge in una tazza l'essenza profumata, il cratere è lì, ripieno di allegria, e c'è pronto altro vino nei vasi, che dice che mai verrà meno, dolce come il miele, odorante di fiori, nel mezzo l'incenso emana il suo sacro effluvio, c'è acqua fresca e dolce e limpida, qui accanto sono i biondi panni, e la tavola suntuosa, oppressa dal peso del cacio e del biondo miele, nel mezzo l'altare è tutto quanto coperto di fiori, e tutta la casa risuona del canto e del tripudio. Bisogna anzitutto, da uomini da bene, levare canti di lode a Dio, con racconti pii e con parole pure, ma una volta che si è libato e implorato di poter operare secondo giustizia, perché questa è in vero la prima cosa da fare, non è eccesso peccaminoso bere fino a tanto che chi non è troppo vecchio possa giungere a casa senza la guida del serbo, e da lodare quell'uomo che dopo aver bevuto rivela cose belle, così come la memoria e l'aspirazione alla virtù glielo suggeriscono. Non narrare le lotte dei titani o dei giganti, o ancora dei centauri, parti della fantasia dei primitivi, oppure le violente lotte di partito, che sono cose che non hanno pregio di sorta, ma bensì rispettare e onorare gli dèi. Questo è bene. E' bello, il passo è bello, l'atmosfera è quella di una festa, di un simposio, un simposio è un termine che viene dal greco, si impono, vuol dire bere insieme, ci si vede per bere insieme, ha evidentemente un valore sacrale, tant'è che alla fine si parla del divino, del dio, no? Il simposio quindi è un momento in cui un gruppo di persone, un gruppo di concittadini, un gruppo di amici si riunisce, si riunisce per bere insieme, ma per compiere un vero e proprio rito, un rito in cui ogni dettaglio è curato in maniera assolutamente precisa, e questo poi è il significato della religione, la religione che significa proprio mettere tutte le cose a posto, metterle tutte secondo un determinato ordine. Ci ricorda, può ricordare a qualcuno, per esempio la cerimonia del tè, no? Tutti quei rituali che si utilizzano, per esempio nel buddismo zen giapponese, o che si utilizzano da una parte o dall'altra del mondo, cioè il rituale che ha a che vedere con la religione, prevede determinati gesti, prevede determinati elementi, determinate cose, qui per esempio si parla di essenza profumata, si parla di incenso che emana il suo sacro e fluvio, quindi è stato preparato, e poi c'è la parte più propriamente conviviale, quindi da una parte ci sono pani e miele, evidentemente dall'altra c'è il vino, il vino da una parte e l'acqua dall'altra. I greci bevevano, mescolavano nel cratere, in questa sorta di vaso, mescolavano un tot di parti di vino, che era velocemente più forte, di vino puro, con un tot di parti di acqua. Più parti di acqua significava rendere il vino più digeribile, diciamo, annacquarlo di più leggero, ecco. Meno parti di acqua evidentemente provocava un'ubriacatura più o meno sonora, ma vedete qui il rito è un rito di tipo religioso, serve a rendere migliori le persone, a far sì che le persone possano esprimere parole e discorsi pi, pi, cioè conformi all'etica, quella che è la morale divina, l'atteggiamento più è l'atteggiamento corretto nei confronti del divino, quindi lo scopo non è quello di ubriacarsi o di lasciarsi andare, ma di sciogliere, per così dire, quelle che sono le catene delle forme, dei pregiudizi, dell'imbarazzo che ciascuno di noi ha e aveva a suo tempo per produrre cose belle, visioni belle, discorsi belli. Tutto rispettando la metriotes, quella mediocritas, per dirla alla latina che abbiamo detto, tipica dell'etica delfica, quindi tutte le cose le si fanno secondo giusta misura. Ecco che bevi abbastanza da poter tornare a casa, soprattutto se sei una persona anziana, una persona matura, con le tue gambe, cioè senza essere sollevato a forza o doverti appoggiare ad un servo, quindi bere al punto che un vecchio possa giungere a casa senza la guida del servo, che riesca a trovare solo la strada di casa. E alla fine, che cos'è veramente Pio, visto che stiamo parlando del divino? Celebrare le geste dei titani, dei giganti, quindi racconti mitologici? Beh no, in realtà le cose che hanno veramente pregio e che quindi ci aiutano a rispettare, a onorare gli dèi, sono discorsi che vanno oltre quella che è la visione mitologica spiccia, no? Quella che era tipica dell'epica classica, della teogonia esiodea, e che era anche tipica, diciamo, della visione del mondo del tempo. Quindi qui Senofane ci sta evidentemente proponendo una concezione del divino diversa, alternativa, rispetto a quella dei suoi contemporanei. Ed è esattamente questo il tema che ci sta più a cuore, no? Vediamo che cosa dice intorno alla divinità, quindi leggiamo e commentiamo alcuni di questi frammenti senofanei. Omero e Desiodo hanno attribuito agli dèi tutto quanto presso gli uomini oggetto di onta, cioè di disprezzo, di vergogna, e di biasimo, di rimprovero, rubare, fare adulterio, ingannarsi reciprocamente. Quindi Senofane sta lamentando il fatto che Omero e Desiodo, che sono le due autorità, le due principali autorità, il fatto di poesia, il fatto di cultura greca, beh, sono cadute su un fatto fondamentale, cioè quello che hanno equiparato gli dèi agli uomini. Anzi, non hanno equiparato poi gli dèi agli uomini virtuosi, cioè non hanno attribuito alle divinità le virtù che si celebrano negli uomini, ma anche i vizi, anzi soprattutto i vizi, quindi gli dèi rubano, fanno adulterio, si ingannano reciprocamente, sono invidiosi, no? Il motivo che sta alla base della guerra di Troia, se vi ricordate, è proprio la scelta di Paride, che dona il pomo Afrodite, scontentando le altre divinità, Artemide e Atena, che erano intervenute, che erano in lizza. Quindi le divinità soffrirebbero delle stesse debolezze, per così dire, di cui soffrono gli uomini, e questo Senofane lo trova francamente scandaloso, no? E dice poi, ma i mortali credono che gli dèi siano nati e che abbiano abito, linguaggio e aspetto come loro. Quindi qui sta criticando quello che, potremmo dire, ma anche qui usiamo la solita parolaccia greca, il cosiddetto antropomorfismo delle divinità greche, greche, romane, insomma, delle divinità pagane, che vuol dire antropomorfismo, antroposso uomo, morfe e forma, cioè le antiche divinità erano concepite a modi uomini con la forma di uomini. Ma qui Senofane ci sta dicendo, no, il divino va concepito in un'altra maniera, che non è una maniera che ha a che vedere con i sensi, con la sensibilità, ecco che forse così spieghiamo anche il riferimento che abbiamo fatto all'inizio alla doxa, alla sensibilità, no, e allo scetticismo che deriva da un uso, diciamo, non corretto dei sensi. Ecco, la divinità invece si presta ad essere afferrata attraverso il nus, attraverso il logos, cioè attraverso l'intelletto, attraverso la ragione, attraverso il ragionamento. È un principio decisamente astratto, non possiamo considerare la divinità il divino a mo' di uomo, con forma antropomorfa. Dunque gli dèi non sono né nati, né hanno abiti, linguaggi o aspetti come gli uomini. Infatti, dice, anche qui in maniera, come dire, ironica, ma se i buoi e i cavalli e i leoni avessero mani e potessero con le loro mani disegnare, dipingere e fare ciò appunto che gli uomini fanno, i cavalli disegnerebbero figure di dei simili ai cavalli e i buoi simili ai buoi e farebbero corpi foggiati così come ciascuno di loro è foggiato. Cioè, se i leoni avessero degli dèi, potessero concepire degli dèi, li immaginerebbero a mo' di leoni, con il volto di leoni, con le fattezze di leoni. Questo vale per i cavalli, vale per qualsiasi bestia, evidentemente. Per sottolineare, ironicamente, l'ingenuità di quegli uomini, che poi sono i suoi contemporanei, che sono in più, che considerano il divino in senso antropomorfo. Ma non solo in senso antropomorfo, quindi qui non è soltanto un problema interspecie tra l'uomo e le altre bestie, ma anche interetnico, per così dire. State a sentire che cosa dice Senofale. Gli etiopi dicono che i loro dèi sono camusi, con il volto, il muso da africano, e neri, con le labbra sporgenti. I traci, che sono cerulei di occhi, gli occhi azzurri, e rossi di capelli. Quindi ogni popolo, ogni etnia, si immagina la divinità con le fattezze tipiche di quella tribù o di quell'etnia. Neri, se parliamo dei neri degli etiopi, rossi di capelli e cerulei, di occhi, i traci, il popolo nordico che abitava la tracia e così via. Senofane di Colofone, dice Clemente Alessandrino, insegnando che Dio è uno, uno, e in corporeo si esprime così. Uno, Dio, tra gli dèi e tra gli uomini il più grande, né per aspetto simile ai mortali, né per intelligenza. Quindi il divino, il Dio, è un'entità assolutamente altra, assolutamente ulteriore, superiore sia agli dèi, come comunemente ce le immaginiamo, naturalmente c'è gli dèi del politeismo, sia evidentemente agli uomini, e per aspetto non simile né ai mortali, e nemmeno agli altri dèi evidentemente, né per aspetto né per intelligenza. Quindi il divino avrebbe uno statuto ontologico, per così dire, assolutamente altro, assolutamente ulteriore rispetto all'umanità. In parole povere, Dio non ce lo possiamo immaginare come ci immaginiamo gli uomini, non ce lo possiamo immaginare come un superuomo. L'altra nozione di base per capire la visione di Senofane e per sottolineare quello che Senofane ha portato alla filosofia, alla storia della filosofia occidentale, è proprio l'idea del monos, cioè dell'unicità, dell'unità del divino. C'è un solo Dio. C'è un solo Dio che per il momento, ecco, non dobbiamo immaginarcelo però alla maniera degli ebrei o dei cristiani, innanzitutto non si tratta di un Dio trascendente, cioè un Dio che si trova, diciamo, che è collocato in un'altra sfera dell'essere, è un Dio immanente evidentemente, è un Dio che corrisponde alla natura, però ecco, proprio perché corrisponde alla totalità dei fenomeni, alla totalità della natura, non possiamo ingenuamente rappresentarcelo limitato, finito, come fosse una delle tante cose o come se fosse un tanto più un umano, quindi con delle caratteristiche di tipo antropomorfico. Sempre riferito al divino, tutto intiero vede, tutto intiero pensa, tutto intiero ode, tutto intero vede, pensa, ode, quindi è un animale, quindi assolutamente sensibile ed è caratterizzato dal nus, cioè dall'intelligenza. Dio è intelligenza, è intelligenza pura, tutto vede, tutto pensa, tutto ode, tutto pervade, per così dire. Ancora una volta torniamo a un'immagine della natura come un unico animale divino che è dotato di intelligenza e di sensibilità, ma senza fatica, con la forza del pensiero, tutto scuote, tutto muove con la forza del pensiero. Questa è un'immagine assolutamente fondamentale, pensate che poi Aristotele, un paio di secoli dopo, definirà il divino, il Dio, noesis noesios, cioè pensiero di pensiero, nonché motore immobile, ciò che muove tutti i fenomeni naturali e li muove essendo pensiero che pensa a se stesso. E questa immagine del divino, questa definizione del divino, come pensiero che pensa a se stesso, attraversa tutta la storia della filosofia, giungendo fino a San Tommaso, per esempio, uno dei più grandi filosofi medievali, avrà a che fare, rientrerà nella definizione scolastica della divinità, secondo la visione cristiana, no? Ne parlerà anche Dante, per esempio, nella Divina Commedia. E se vogliamo qui, in questi frammenti di senofane, troviamo, come dire, i semi concettuali e immaginifici di quelli che poi saranno i successivi sviluppi della filosofia occidentale, dalla Grecia all'Europa all'età medievale. Sempre nell'identico luogo, permane senza muoversi per nulla, né gli si addice recarsi or qui or là. Quindi non si muove, è assolutamente immobile, motore immobile di Aristotele che citavo prima. Ma, ripeto, perché è immobile? Innanzitutto perché è un tutto e non vediamo dove il tutto possa effettivamente spostarsi se è il tutto, perché per potersi spostare non dovrebbe essere il tutto, dovrebbe essere una parte del tutto, comunque dovrebbe esserci un'ulteriore realtà oltre al tutto che il Dio rappresenta, ovvero lo spazio. Cioè io mi posso spostare solo se c'è dello spazio vuoto, ma se io sono il tutto, evidentemente, dove potrei andare? Posso soltanto rimanere lì, fermo, identico, immobile, identico a me stesso. Ed è esattamente questa l'idea del divino. Divino che, ripeto, è perfetto. essendo perfetto non cambia, non muta e dunque non si sposta nemmeno nello spazio, evidentemente, così come non muta nel tempo. Il certo nessuno mai lo ha colto, né alcuno ci sarà che lo colga e relativamente agli dèi e relativamente a tutte le cose di cui parlo. Infatti se anche uno si trovasse per caso a dire, come meglio non si può, una cosa reale, tuttavia non la conoscerebbe per averla sperimentata direttamente, perché a tutti è dato solo l'opinare, e questo è il frammento che abbiamo letto e commentato precedentemente. Che cosa può significare in relazione ai frammenti che abbiamo detto prima? Se il Dio effettivamente, il divino, è il tutto, è il tutto, è la realtà. Data la natura finita, limitata, in termini coordinate spazio-temporali dell'uomo, no? Siamo mortali e dunque la nostra esperienza è assolutamente infinitesimale rispetto alla storia dell'umanità, che a sua volta è infinitesimale rispetto alla storia delle forme viventi del pianeta o alla storia del pianeta. Immaginatevi quanto sia infinitesimale la storia di questo corpuscolo, di questo agglomerato di elementi, di polveri spaziali che chiamiamo Terra rispetto alla storia del sistema solare o quella del sistema stellare o della galassia all'interno della quale ci muoviamo. Quindi veramente è nulla, è niente. Ecco, allora, se la vita dell'uomo, del singolo uomo, è così limitata nello spazio e nel tempo, a malapena può, balbettando per così dire, a afferrare alcune tessere, alcune microscopiche tessere di un puzzle che è immenso e non lo potrà mai esaurire col dire, con il pensare. Può solo porlo in termini logico-concettuali come unico, immenso, eterno, ciclicamente ritornante su se stesso, ecco, perfetto, immobile. Si possono usare questi termini che hanno però, ripeto, a che vedere con la logica, non a che vedere con l'esperienza diretta. Nessuno può dire di aver conosciuto Dio e di averne esaurito la conoscenza. Nel mistico può fare un'affermazione del genere, tantomeno può farla illogico. Ecco quale potrebbe essere il significato con l'interpretazione dell'ultimo frammento che ho letto. Con questo frammento terminiamo la nostra esposizione su Senofane, esposizione che dovrebbe averci preparato alla successiva esposizione di Parmenier, il principale filosofo della cosiddetta scuola eleatica, il cosiddetto filosofo dell'essere, di cui parleremo nelle prossime lezioni. Buono studio!